Ciao a tutti ragazzi, io sono Nervi ed è uscito al cinema The Marvels. Ebbene sì, siamo qua per parlare un pochino di tutto quello che potreste non aver notato nel film. Per quanto riguarda il finale della post-credit, ho già fatto un video a riguardo, ve lo lascio nel link in descrizione. Ma partiamo subito, perché ci sono non poche cose da dire su questo The Marvels. Nonostante il film non mi abbia fatto impazzire, diciamo che è un grande me per quanto mi riguarda, un'occasione un po' sprecata. Non dimenticare di seguirmi qua, su tutti gli altri social, e utilizza il codice sconto NERDI per le maglie pampling più belle di sempre e le più nerd. Non perdertele. E ora partiamo subito, The Marvels, sigla! Ok, partiamo dal presupposto che The Marvels è praticamente un Captain Marvel 2 con queste tre protagoniste. Protagoniste delle quali potresti non ricordarti un tubo, quindi ti faccio un velocissimo recap. Carol Devers è un pilota collaudatore e sta testando una nuova navicella spaziale, alimentata proprio dal Tesseract, e finisce per essere coinvolta in una guerra interplanetaria tra Skrull e Kree. Poi c'è un incidente e vive a questi poteri, ma perde la memoria. Viene qui di presa e indotta a servire il leader dell'intelligenza suprema dei Kree. Che poi, dico io, intelligenza suprema? Ti fideresti davvero di uno che si chiama così, che si autoproclama intelligenza suprema? Una red flag incredibile. Ok, ora chiamatemi tutti il nerd supremo. Non lo farò. Vedi? Vedi? C'è qualcosa di sbagliato in tutto questo. Finché non torna sulla Terra, incontra Nick Fury, scopre tutta la verità e aiuta a soccorrere i rifugiati Skrull. Lungo la strada facciamo la conoscenza di Maria Rabeau, la migliore amica di Carol, e Maria ha una figlia, Monica. Carol decide quindi di rimanere nello spazio per decenni, mentre Monica diventa un agente dello SWORD. Nello show WandaVision, Wanda crea una realtà attascabile, che trasforma tutta una città in una sitcom americana. E questo è il sogno di molti noi, ammettetelo. Cioè, avessi la possibilità di vivere in un mondo stile sitcom, tipo Modern Family, potrei impazzire. Pensa ad andare in giro e avere a che fare i commenti del calibro di Phil, di Mitch e Cam, magari un JD, potrei impazzire. Poi se incontrassi Barney. Che bella vita. E tu in quelle sitcom vorresti vivere? Strimmelo qua sotto nei commenti. Comunque, diciamocelo, Wanda una vera nerd. Wanda una di noi. Monica è passata un paio di volte nel flusso di energia che intrappolava la città, e ha cambiato la sua struttura cellulare, ottenendo dei poteri, e di conseguenza finisce nello spazio a servizio di Dick, come supereroina. E come astronauta. Infine, Kamala è una fan nerd di Captain Marvel. Insomma, è praticamente una nerd come noi, che legge i fumetti, e che si ritrova con dei poteri magici. Vabbè, con dei superpoteri. Quanti di voi l'hanno invidiata? Sì, anche io. Anche io. E per non farla troppo lunga, la nonna è un essere di un'altra dimensione che è intrappolata nella nostra dimensione. Ma si innamora di un uomo, ci fa una famiglia, e tramanda a questa famiglia un bracciale trovato dalla sua gente. Quando Kamala lo indossa, il braccialetto sblocca poteri mutanti e dormienti. E Kamala diventa una supereroina. Chiamata Miss Marvel. Pick up di un film e due serie tv in... poco tempo. Il film parte mostrandoci il pianeta ormai morente del sistema solare del pianeta Hala, terra nativa dei Scrumi. Cacchio dico. Il pianeta natale dei Cree. Nei fumetti questa stella è chiamata Pama, ed è contenuta all'interno della grande nebulosa di Magellano. E successivamente nel film, Monica, si riferisce alla galassia legata agli avvenimenti che stanno accadendo in quel momento, come Galassia Magellanica. O la galassia di Magellano, non mi ricordo come l'ha chiamata. Insomma, è comunque una citazione ai fumetti, e io adoro queste cose. In quanto nerd, non posso che approvare. Vediamo poi la nave della cattivissima Darben, che non me ne vogliate, ma è probabilmente uno dei cattivi più brutti e meno riusciti nell'MCU. Proprio, raga, zero. Non mi è piaciuta per niente. Zero empatia e connessione col personaggio. Sia in positivo che in negativo. È proprio zero. Non mi ha lasciato nulla. Buttata proprio lì a caso. La nave comunque si muove nello spazio attraverso uno di quei punti esagonali che abbiamo già conosciuto in Guadagni della Galassia. E sono dei veri e propri punti di salto, che permettono di muoversi in maniera rapidissima nell'universo. E scopriremo più avanti nel film che tutta questa rete di connessione di vari portali tra lo spazio e tra l'universo è stata creata e costruita proprio dalle bande quantiche. I bracciali di Kamala, per intenderci. E l'affetente. E queste bande quantiche, questi bracciali, è proprio ciò che la nostra Darben sta cercando. Nei fumetti, Darben è un generale Kree, che si unisce a un altro cattivissimo fanciullo del quale non ricordo il nome, per governare l'impero Kree. Come imperatori congiunti. Ed appare per la prima volta in Silver Surfer numero 53 del 1991. In questo film invece hanno variato un po' il tutto. E qua diventa un'accusatrice. Un po' come Ronan, quello che abbiamo conosciuto in Guadagni della Galassia. E come lui porta un martello gigantesco. Thor lo invidierebbe. Darben comunque riesce a trovare un bracciale. Ma ovviamente sta cercando anche l'altro, che però noi sappiamo ormai si stia facendo la sua bella vita. L'altro bracciale, infatti, sappiamo da Miss Marvel, che è finito sulla Terra. Ed è stato trovato in una caverna che era contrassegnata con il simbolo dei Dieci Anelli. Ed è stato trovato nel 1942 da un gruppo di clandestine. Clandestine. Non mi ricordo mai come si pronuncia, quindi dirò clandestine, anche se sbagliato. Esseri provenienti dalla dimensione nor, di cui faceva parte anche la bisnonna di Kamala. Era la bisnonna, giusto? Sì, sì, la bisnonna. E trovarono questo bracciale su un braccio blu, probabilmente proprio di un Kree. Il bracciale venne tramandato e arrivò a Kamala. Questo perché la bisnonna si innamora di un tizio terrestre, fa una famiglia e bim bum bam, e nasce Kamala e si ritrova con un bracciale che le dà dei poteri mavici. Non so perché continui a dire poteri mavici, sono superpoteri normali. Vabbè, poteri. E in tutto il film non ci vengono date informazioni sull'origine di queste bande quantiche e soprattutto sul collegamento con i Dieci Anelli, proprio zero. Ce lo buttano lì ma non ci dicono niente. Io voglio sapere! Ma ha il mio senso di teoria pizzica, ne parlerò più avanti. E chissà, secondo me, bracciale e anelli sono arrivati nella nostra dimensione insieme e semplicemente condividono la loro origine. Nel film di Shang-Chi, per esempio, ci hanno mostrato questa civiltà nascosta presente in un regno adiacente alla Terra. La città di Talo. Oddio, era... Oggi non ricordo i nomi. Talo, giusto? Corretto. Tre punti per tasso russo. Comunque, quel regno, quella città, potrebbe essere collegata in qualche modo con il regno Nord, quello da cui prevenivano i clandestai. Darben, tra l'altro, mentre parla del bracciale, dice come siano stati forgiati in coppia. E utilizza il termine forgiati e questo è molto importante perché vuol dire che qualcuno li ha creati. C'è un creatore di questi manufatti. Qualcuno ha costruito queste bellissime bande quantiche. Altro che Pandora, quella roba che vuole la tua ragazza. Guarda, guarda lì, bracciali quantici potentissimi che donano poteri, aprono pure i portali nello spazio. Cosa vuoi di più? Dillo alla tua ragazza. Compra delle bande quantiche in offerta. Sto impazzendo. Il film poi parte con un intro molto simile a quello che avevamo visto in Miss Marvel. L'intro disegnata che ci avevano fatto vedere all'inizio, che io avevo amato alla follia. Anche qua l'intro prosegue con dei disegni sul diario di Kamala. E vediamo i suoi schizzi insieme a Carol Danvers e chi più ne ha più ne metta, mentre combattono assieme come sorelline i cattivi spaziali. E vediamo come Kamala abbia scritto anche una descrizione su di lei in quanto supereroina. E vediamo tra i non mi piace, i ragni. Sì, non credo sia una citazione a Spider-Man, non sono quelli della Sony che fanno il trailer di Kravend. Però stavo riflettendo, se odia i ragni, se li fanno ribrezzo i ragni, se non le piacciono i ragni, chissà come reagirà quando incontrerà il nostro Peter Parker. Perché a un certo punto Spider-Man dovrà incontrarlo. Sono curioso. E comunque non possiamo darle troppo torto. Cioè Spider-Man è fantastico, ma i ragni fanno un po' schifo. Poi per carità possono anche piacere a qualcuno. C'è gente che ama il finale di Game of Thrones, quindi tutto è possibile. I disegni continuano con Carol e Kamala che combattono dei robot. E che questa non possa essere una prefazione di quello che accadrà in futuro? Abbiamo scoperto infatti che Kamala è una X-Man nel finale di Miss Marvel e ci sono stati introdotti nel finale della pellicola proprio gli X-Men. E quali sono i più grandi, tra i più grandi perlomeno, nemici degli X-Men? Esatto, le sentinelle. E cosa sono le sentinelle se non robot? Coincidenze? Io non credo. Passiamo poi a Carol sulla sua astronave che sta utilizzando lo strumento di memoria dei Kree che avevano utilizzato precedentemente nel film prima su di lei per storpiarle i ricordi e toglierle alcuni dei ricordi che aveva e sta utilizzando in questo caso invece quell'oggetto proprio per ricordare tutto ciò che le era stato tolto precedentemente, tutto ciò che aveva dimenticato. E con queste scamotage ci fanno un bel recappone del primo Captain Marvel, ma non ci serve a granché perché a me quel film ha fatto abbastanza cagare. Ma ci mostrano anche un momento di cui non sapevamo nulla, ovvero nel finale di Captain Marvel abbiamo la nostra Carol che, nel pieno della sua ira e della sua rabbia, arriva sul pianeta natale di Hala e uccide a niente e distrugge il cervellone dell'intelligenza suprema, proprio violentissima, e viene vista tra l'altro da Darben. Ed è questa l'origine del nostro film. Wow, Marvel? Wow, un lavorone. L'ho già detto che non mi piace Darben come cattivo, vero? No, non mi piace. In questa scena iniziale ci sono poi non poche scene di Carol con il gatto, ma c'è una curiosità a riguardo. Bello lui, guarda che bello che è. Ecco, se certe scene ti sembrano un po' strane, un po' finte, è perché sono state fatte in CGI e tu mi dirai, grazie a sta ceppa, nerdi, per forza qua stanno volando nello spazio, ci credo che l'hanno fatta in CGI. Sì, ma in realtà non è solo quello, è che Carol è allergica ai gatti e di conseguenza ci doveva essere il gatto effettivamente con lei sul set il meno possibile. E in quella scena, quando lei vola nello spazio con il gatto sulla spalla, anche il gatto messo lì sulla spalla è in CGI. E poi inizia il disastro. Monica interagisce con la luce proveniente da un barco spaziale difettoso. Anche la mano di Carol si protende per toccare lo stesso tipo di energia e nel mezzo vediamo Kamala con il bracciale che si illumina. E poi, boom, inizia lo scambio. Ora, quando due delle tre utilizzano i loro poteri nello stesso esatto momento, quindi in contemporanea, si scambiano di posto. Poco prima Carol comunque stava combattendo dei soldati Kree sul pianeta dove era stato trovato il bracciale da Darben, il pianeta MB-48. E vediamo come i soldati sembrano avere gli stessi elmetti dei soldati del video di orientamento della TVA. Ma i soldati in quel caso stavano combattendo dei nemici viola, dalla pelle viola. E chissà, potrebbero essere dei titani della stessa razza di Thanos. Lì dietro, infatti, vediamo delle astronavi che sono le stesse identiche che erano sul pianeta di Thanos stesso. Terrell comunque scopre nuove informazioni, ovvero che Darben sta andando a rifugio Skrull nello spazio sul pianeta di Tarks. E scopriamo, infatti, che Darben è già in riunione con questi Skrull e che sta proponendo una sorta di patto di qualche tipo. E il leader dei rifugiati Skrull che vediamo in questa scena è lo stesso che veniva citato in Secret Invasion. In questa riunione c'è Darben che dice di voler appropriarsi dell'aria del pianeta per darla ad Hala, che è all'aria ormai contaminata e non respirabile. E si propone di prendere gli Skrull rifugiati e portare da qualche altra parte, poiché quel pianeta rimarrebbe per l'appunto senza aria. Qua poi parte un momento di mega scontro che è stato, lo ammetto, coreografato veramente bene. È stato tagliato in modo da non rendere il tutto confusionario come avrebbe potuto essere e mi è piaciuto tantissimo. È forse una delle parti migliori di tutto il film. Anche se subito dopo la battaglia c'è una delle battute più belle di tutto il film. Mi ha fatto volare. Quando Kamala osserva il tablet che tiene le informazioni su di lei e su altri esseri superpotenti nel mondo e nello spazio, lei dice Ma se quelle contenute lì sono informazioni top secret, super segrete, perché sono su un tablet trasparente dove si vede dall'altra parte? Effettivamente, raga, che senso ha? Marvel, io capisco voler fare la roba futuristica e tecnologica, ma che senso ha avere delle informazioni top secret che si possono vedere, anche da quelli che sono dietro? Vabbè, abbiamo poi la scena in cui Kamala cambia posto con Captain Marvel e cade dal cielo come una povera fanciulla e mentre lì, che urla nel vuoto rischiando di cadere a terra e sfracellarsi, vediamo come sia comunque sempre una vera nerd, perché ha addosso una maglietta con due copertine del fumetto di Captain Marvel. È una di noi, una di noi. Dopo un momento di scambi confusionari, tutti e tre arrivano sul pianeta rifugio degli Skrull. E lì c'è Darben, che quando vede Carol Danvers va fuori di testa, impazzisce completamente. Sembro io quando ho visto il primo video con Hugh Jackman e Ryan Reynolds che annunciavano Deadpool 3 e Ritorno di Wolverine. Fazzo completo. Darben, arrabbiatissima, non ci vede più dalla rabbia e punisce addirittura gli Skrull per il solo fatto che Carol sia arrivata sul loro pianeta e decide di ucciderli tutti, prendendo l'aria dal pianeta senza farli andare via di lì. E prende l'aria utilizzando il potere del bracciale che è riuscito ad ottenere sul pianeta MB48 e aprendo un portale nello spazio. Ed è stato un momento veramente tosto quello, soprattutto quando abbiamo visto come nonostante ci fossero lì tre supereroine, non siano riusciti a salvare tutti gli Skrull, ma solo una parte. E vediamo infatti lì gli altri Skrull che rimangono sul pianeta ormai morente. E vediamo questa roba tanto nello sguardo deluso di Kamala quando si rende conto che non possono e non riescono a salvare tutti. Non è stato facile. E lo sguardo deluso di Kamala è probabilmente lo sguardo che abbiamo avuto tutti durante il film. E non intendo per quel momento, ma proprio per tutto il film. No, scherzo. Per dare rifugio poi a quei poveri Skrull che sono riusciti a salvare, chiamano Valkyria. E non so voi, ma quando ho visto Valkyria interagire con Carol, qualcosa c'è sotto qualcosa, gattacci cova, la cosa mi puzza. Anche voi l'avete visto, vero? C'è un feeling particolare tra le due, che non ci vogliono dire qualcosa? Comunque Valkyria porta gli Skrull sulla Terra, probabilmente su un nuovo Asgard. E tutto ciò cozza un po' con quello che è successo in Secret Invasion, dove il presidente ha detto che avrebbe fatto fuori tutti gli alieni presenti sul pianeta Terra. Vabbè, secondo me semplicemente Secret Invasion l'ha scritto qualcuno, Captain Marvel 2 l'ha scritto qualcuna, The Marvels l'ha scritto qualcun altro, non si sono parlati e ognuno ha fatto il cacchio che gli pareva. Contenti loro, contenti tutti, ma non ha senso. Tuttavia lo ammetto, l'idea di avere un futuro nell'MCU dove gli abitanti di Asgard, perché ricordiamolo, gli asgardiani teoricamente sono alieni, gli abitanti di Asgard insieme a gli Skrull, magari quelli di Talokan con Namor, aiutati anche da Wakanda, insorgono per attaccare l'America. E sarebbe uno scontro assurdo. Potrebbe veramente venire fuori un bel film. Mi piace. Ora scrivo alla Marvel. Qua poi vediamo meglio la scena di distruzione dell'intelligenza suprema. Nel film di Captain Marvel non c'era mai stata mostrata fisicamente, prendeva forme diverse in base all'interlocutore. Mentre qua la vediamo in tutta la sua testugine gigantesca magnificenza. Ho usato parola a caso. L'aspetto è comunque molto simile a quello dei fumetti. Insomma, i Kree sono comandati dal mago di Oz. In questo universo mi sa che Dorothy non è arrivata. Ma forse ti starei chiedendo, nerd, che diamine era l'intelligenza suprema? Beh, è una sorta di sistema informatico che collegava a tutti i vari cervelli dei più grandi leader e pensatori della storia Kree. Per l'appunto viene chiamata intelligenza suprema. E nei fumetti era stata creata per aiutare la razza a sopravvivere alla figlia del suo percorso evolutivo. Poi un'altra scena decisamente divertente, dove abbiamo Kamala che parla con Carol e si assicura che il fatto di chiamarsi Miss Marvel non violi qualche copyright del nome Captain Marvel. E questa battuta deriva da una disputa che in passato è esistita davvero. Che vuoi dire? Tra la Marvel e i proprietari dei diritti dell'originale Captain Marvel. Infatti quello che conosciamo oggi come Shazam in passato era Captain Marvel. E solo successivamente nel 1974 cambiò il nome in Shazam. E questi casini di diritti e di copyright furono il motivo per cui nel 1967 Stan Lee, che era un furbacchione, risolse semplicemente il problema cambiando il nome in Mar staccato Bell. Un genio. E sempre parlando di nomi, Kamala a un certo punto parte con un flusso di coscienza con tutti i nomi che le vengono in mente che potrebbe affibbiare a Monica Rambeau. E tra l'altro utilizza nomi anche come Spectrum, che sappiamo essere uno dei nomi che effettivamente prenderà dei fumetti. Comunque Monica non ne vuole sapere. Non vuole un nome in codice. E mentre va con questo suo flusso di coscienza, Kamala racconta anche di alcuni suoi avvenimenti del passato, quelli che abbiamo visto nella serie tv, quando per esempio ha aperto un portale ed è finita nel passato. Ed è qua che Carol dà il nome corretto al bracciale di Kamala, ovvero la chiama Banda Quantica. Dispositivi leggeri utilizzati per creare tutti i punti di salto nell'universo. Nei fumetti le bande quantiche sono state create da E.ON. Un'entità cosmica che supervisiona il tempo, ma che in realtà noi abbiamo già visto nell'MCU. Era una delle statue nella Sala dell'Eternità intorno a vent'anni. E ovviamente queste bande quantiche assorbono potere ed energia dal regno quantico, dalle zone quantiche. Una sorta di luogo fonte di tutte le energie dell'universo. E queste bande, come detto, ne incalanavano direttamente l'energia. E questo regno quantico, per quel che ne sappiamo, nel nostro MCU potrebbe essere il regno quantico, quello che abbiamo conosciuto in mente in Quantum Mania, o chissà potrebbe essere proprio la dimensione NOR. Uno dei protettori più importanti dell'universo Marvel che ha mai indossato le bande quantiche è stato Quasar. E parlando di ciò che accade nei fumetti vediamo come nel film siano stati fusi molti aspetti legati ai fumetti stessi. Hanno fatto po' una cozzaglia di roba in sostanza. Nei fumetti le bande quantiche sono diventate il prototipo di una creazione di un'arma chiamata Negabande. E sempre nei fumetti l'originale Captain Marvel indossa queste bande ed è intrappolato nella zona negativa. Ed è collegato attraverso le bande con un essere umano di nome Rick Jones. Mentre uno infatti era nel nostro universo, l'altro rimaneva bloccato nella zona negativa, finché non si sarebbero scambiati di posto. Molto simile alla Shazam in sostanza. Anche se lì non c'è qualcuno che rimane intrappolato da un'altra parte, ma c'è uno scambio quando... vabbè, avete capito. E questo scambio mi ha ricordato in parte quello che è successo a Kamala quando ha indossato il bracciale per la prima volta nella sua serie tv. Ed è finita in un'altra realtà, la dimensione nor. Un po' come Marvel finiva nella zona negativa per poi tornare nel nostro universo. E quando Carol va sul pianeta dove Darben ha scovato la sua banda quantica, scopre in realtà lì anche un piccolo indizio. Questo simbolo dorato del bracciale delle bande quantiche. Ecco, quel simbolo secondo me potrebbe ricollegarci ancora di più a Quasar, quello di cui abbiamo parlato prima. Qua le tre fanciulle chiacchierano anche degli accusatori e parlano proprio della loro arma, del martello. Nei film questi vengono chiamati l'arma universale. Ma Kamala lo soprannomina Cosmirod, che, guarda caso, è proprio il nome che gli viene affibbiato nei fumetti. Ecco, io amo questo tipo di citazione fumettistica perché Kamala è una nerd, è una di noi che legge i fumetti e il fatto che sia proprio lei a fare queste citazioni legate ai fumetti ma nei film a me fa impazzire. Kamala, ti amo tantissimo, sei il miglior personaggio di questo film, brava. E mentre le tre fanciulle sono sulla nave di Carol, pronte ad andare verso una nuova avventura, iniziano una sorta di momento di allenamento dove imparano a scambiarsi e a non impazzire perché scambiano di posto quando usano i poteri. Proprio stile tre amiche e un paio di jeans. No, aspetta, era quattro amiche e un paio di jeans. Vabbè, tre amiche e un paio di poteri. Anzi, tre amiche e un paio di bande quantiche. Le tre comunque arrivano in un pianeta che abbiamo conosciuto anche nel 2014 nei fumetti. Un pianeta dove parlano tutti in rima. Mentre qua, nel film non parlano in rima ma semplicemente parlano cantando. Si vede che la Disney ha comprato la Marvel e scopriamo qua che Carol, per motivi politici, si è sposata. Certo, come detto, per motivi politici, ma si è sposata. Chissà cosa direbbe Valkyria se lo sapesse. E, aspetta, ma se Captain Marvel si è sposata con un principe e quindi ora è una principessa, è la Marvel della Disney? Allora Captain Marvel è, ufficialmente, una delle principesse Disney. Arriva poi sul pianeta Darben e inizia la battaglia. Ed arriva su quel pianeta perché, così come ha rubato l'aria dal pianeta rifugio degli Skrull, qua vuole rubare l'acqua. Sempre per il suo Hala. Hala. Sembra un detergente intimo, Hala. Ma nonostante tutto l'allenamento sulla nave, le tre fanciulle non sono ancora in grado di utilizzare il 100% dei loro poteri, o comunque di coalizzarsi al 100% per lavorare nel modo corretto. E mi ha ricordato un po' l'inizio della collaborazione dei tre Spider-Man in Spider-Man No Way Home, quando all'inizio sono dei baccalà, poi capiscono come lavorare insieme e piu 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 fanno fuori tutto. Iniziano poi i pasticci per la nave della Sword, quella dove lavora Nick Fury con il suo equipaggio. E, di conseguenza, per salvarsi tutti utilizzano i Flerken, i Baby Flerken, con questi piccoli gattini cuccioletti che erano appena nati. Probabilmente una delle parti migliori del film. I gattini, intendo. Questi esseri, infatti, hanno delle realtà attascabili nel loro stomaco, che possono tenere lì dentro qualsiasi cosa ingeristano. Di conseguenza, i membri dell'equipaggio, seppur con riluttanza, e urla, e fughe, si fanno mangiare da questi gattini amorevoli, proprio per salvarsi e finire tutti su una navicella di salvataggio. Darben comunque riesce a recuperare il secondo bracciale da Kamala, in uno scontro epico contro le tre... Epico, più o meno. In uno scontro quasi decente contro le tre fanciulle. Collidendo i bracciali, apre una spaccatura nello spazio-tempo, nel multiverso stesso. Il tutto, però, è decisamente instabile. E c'è una vera e propria esplosione di energia. E la stessa Darben viene fatta fuori. È morta così. Con le sue stesse mani. Cioè, con i suoi stessi bracciali. Ripeto, questo nemico non l'ho capito. E l'esplosione di questo portale, e l'apertura di questo portale, e anche i colori di questo portale, ricordano tantissimo l'apertura nel multiverso, nella breccia del tempo e dello spazio nel cielo, che si era creata in Spider-Man No Way Home. Per salvare tutti e tutti, quindi, Kamala recupera i due bracciali, li collide nuovamente e manda tutta l'energia contro Monica. Lo stesso fa Carol, che utilizza tutta la sua energia di luce solare contro Monica stessa, per farle assorbire tutta l'energia possibile e immaginabile, in modo da renderla abbastanza potente per poter chiudere il varco che si è aperto nel multiverso. Monica quindi passa dall'altra parte per chiudere tutto, e quando Carol capisce cosa sta facendo, ovvero che si sta sacrificando nel rimanere lì per salvare loro e il loro universo, si fionda più veloce che può per salvarla, ma non ce la fa. Vediamo quindi nel finale come la casa in Louisiana di Monica venga utilizzata da Carol Danvers. Carol va a vivere nella casa di Monica, ed è una cosa carina e dolce, e soprattutto bel furbacchiona, così non paga l'affitto. E durante il trasloco la mamma di Kamala tira fuori questo vassoio dove è dipinto sopra il principe di quelli che cantano, del pianeta di quelli che cantano, ed effettivamente mentre lo guardavo mi sono chiesto, ma quei poracci che fine hanno fatto? Cioè, ce li hanno buttati lì, ci hanno fatto vedere che gli rubano tutta l'acqua, e non ci dicono più nulla. Sono vivi, sono morti, il principe è morto, Carol ora è libera dai suoi vincoli matrimoniali e può sposare Valkyria, perché non ci dicono le cose? Dannazione! Come detto, finale post credit sono nel video che vi lascio in descrizione o col tastino qua sopra. Comunque, prima di finire il video, vorrei lasciarvi con una piccola teoria riguardo i bracciali e i dieci anelli. Dopo aver scoperto tutto quello che abbiamo scoperto finora, la bisnonna di Kamala veniva dalla dimensione norra, e nella serie loro scopriamo che avevano sentito parlare di questi bracciali, e li stavano cercando per poter tornare a casa. E se quei bracciali fossero stati effettivamente creati dai loro predecessori, da membri dei clandestine della dimensione norra, e chissà, magari al tempo, prima di perderli, li avevano utilizzati per mappare il nostro universo, il regno adiacente a loro. Ma chissà, magari a un certo punto il navigatore, colui che stava utilizzando quelle bande quantiche per navigare nel nostro universo, è stato fatto fuori da qualcuno, magari da un Kree, che ha preso i bracciali, ed è per questo che uno dei bracciali l'abbiamo trovato su un braccio blu, un braccio di un Kree. Ma come detto, era stato trovato proprio in un tempio legato ai Dieci Anelli. E in Miss Marvel ci viene rivelato che i clandestine non possono utilizzare i bracciali, loro stessi perlomeno, ma avevano bisogno che Kamala li usasse per loro, perché lei era legata anche a questo mondo, al nostro mondo. Ma se tutto ciò fosse vero, allora anche il membro che inizialmente aveva utilizzato e creato le bande quantiche non avrebbe potuto effettivamente utilizzarle, perché era anche lui un clandestine non legato al mondo della Terra. Ma se insieme ai bracciali ci fosse stato un altro dispositivo che permetteva anche ai clandestine, ai membri della dimensione Nord, di utilizzare i bracciali, e quell'altro dispositivo non era nient'altro che i Dieci Anelli. Ed è per questo che bracciali ed anelli sono collegati, perché il bracciale è stato trovato dove c'era un tempio dei Dieci Anelli. Non lo so, probabilmente è un'idea un po' pazza, forse un po' troppo complicata, ma continua a sembrare assurdo che non ci dicano nulla e che ci sia una connessione effettiva tra questi due manufatti. Devo saperne di più, voglio saperne di più. Fammi sapere cosa ne pensi qua sotto nei commenti, non dimenticare di mettere mi piace e manda il video ai tuoi amici, anche quelli che The Marvels non l'hanno apprezzato più di tanto. E ci vediamo per il prossimo video. Ciao!